Ciao a tutti e benvenuti su come realizzare tutos di ay ispirazione Oggi sono qui con voi con un video nuovo e anche un poco insolito Infatti andiamo a fare un video haul sulle cose che io compro per fare le decorazioni Quindi avete lì davanti a voi un po' di stickers, un po' di scotch decorativo e altre cose che a breve vi faccio vedere Solitamente magari vedete questi video per i vestiti Moltissime persone fanno i video haul per i vestiti ma io oggi invece voglio andare a recensire tra virgolette le cose di cartoleria E comincerei proprio con questo qui davanti poi andiamo a vedere anche le altre cose Comincerei proprio con questo filo particolarissimo che ho comprato Come potete vedere questo filo è una piccola liana, sembra una piccola piantina E è in 3D quindi non è scotch, bisogna ovviamente incollarlo oppure si può mettere intorno alle cose Ma mi piaceva perché sembra proprio una piantina vera, è semplicemente adorabile Qui c'è la parte non decorata che si può attaccare Mentre davanti abbiamo appunto la parte che può essere quella decorativa Abbiamo in tutto 3 metri, addirittura 3 metri di filo E devo dire che mi piace moltissimo, questo è comodo Magari uno vuole un cartellone, magari vuole fare la decorazione di un bel cartellone Metterlo intorno, fare una bella cornice, si può tranquillamente usare Ma allo stesso tempo una persona lo può utilizzare ugualmente anche per decorare qualcosa di 3D Dopo vediamo come, è anche abbastanza lungo Quindi 3 metri, ci puoi fare tante cose E per esempio qui io l'ho attorcigliato Potrebbe essere comodo per decorare un bel bicchiere Per decorare appunto qualcosa di tondo, una lampada o qualcosa del genere Quindi sono molto soddisfatta di questo acquisto Perché penso sia stato uno dei migliori acquisti Lo vado a mettere via e andiamo a vedere le altre cose Parte numero 2, li usiamo in tantissimi DIY Guardate qui che scotch, decorativi molto carini che ho preso O washi tape, li potete chiamare come preferite So che l'inglese va alla grande quindi se volete li chiamo washi tape E ho questi 3 effetto metallico Soprattutto il primo, ma li analizziamo Qui ho questo, sempre metallico ma con questo effetto filo Molto bello Che dice Let's be adventurers Fantastico, siamo avventurosi No, lasciateci essere avventurosi Diciamo così Oppure vai con l'avventura Una cosa del genere Non so se c'è la traduzione in italiano Però è molto molto carino E mi piace assai come la luce ci va a battere sopra Vedete che belli che vi lascia quel mezzo ricamo dorato Dorato, bello Qui pure, oh mi ricorda Clint Questo il pittore, non so, sapete E questo qui anche con le stelle, molto bello Sempre metallico Effetto metallo, quindi fantastico Sicuramente con questi ci facciamo qualche challenge Poi vedrete, secondo me sì Ho anche un'altra confezione di scoccini O washi tapes Qui ne ho 4 con 4 diverse misure Vedete da 6, 10, 15 e 20 mm E sono entrambi da 3 metri Eppure questi erano da 3 metri Quindi ok, molto bene 15 mm e 3 metri pure gli altri Vado ad aprire e fammi vedere cosa mi proponi Ecco, questi sono già più inerenti all'estate Hanno già una vibe estiva migliore Guarda qui questo qua bianco E tipo turchese Gelatini, adorabile Questo mi sa proprio di bagnino Ha proprio la vibe estiva Quella da bianco con le righe rosse o fucsia Poi qui abbiamo happiness Felicità Bellissimo Ci decoriamo E questo ha i mini triangolini Devo dire, molto fresh Sicuramente è d'accompagnamento Perché è un po' anonimo Come washi tape Ma non è male Li vado a mettere via anche questi Sono super soddisfatta Adesso vi faccio vedere una chicca Una cosa fantastica Guardate qui Questi praticamente Sono Praticamente Sono dei pannelli Diciamo piccini Per decorare E hanno ovviamente Delle fantasie diverse Queste sono Legate all'estate E alla frutta Infatti vedete Che bel pattern La c'erano tutti i frutti Qui abbiamo gli agrumi Anche questo è stra bello Poi Ah Questo con le fragole Adorabile Guarda che bel rosso Impattante Mi piace questo qua Monocolor Tipo Più o meno E anche questo qui Con lime È stra bello Ah Questo qua pure Mi piace Molto carino Mi piace come cambiano i colori E qui invece Non abbiamo frutta Bensì abbiamo pallini Pallini estivi Sì infatti il colore Ci sta assai bene Oh le ananas Io adoro le ananas Guarda che bello Questo le ananas Con i cuoricini Altri arance Ecco Questo è particolare Questo qui Ha soltanto I contorni Della frutta Ed è molto carino È stile pop Ancora agrumi Pazzi con gli agrumi Quest'anno eh Andiamo a vedere Gli altri Pattern Qui Stile boho Quindi Roba indie Piume Cose un po' indiane Non so se mi sono spiegata Un po' tumblr Qui abbiamo Gli scaccia pensieri O gli scaccia sogni Non mi ricordo Qui abbiamo Un altro pattern Questo è proprio tumblr Cioè questo qua è proprio Tipico Quello che troviamo online Però è stra bello Guardate che bello Qua dietro Questo qui È il pattern Che si fa con la maglietta Quella per fare la maglietta hippie Non so se avete visto il DIY Ma è simile Anche questo bellissimo Con i toni rosa Un po' più chiaro dell'altro Anche estivo ci sta bene Ecco questo un altro Sembrano delle gemme Quelle al centro Mi piace Molto 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 Luminoso Piume Questo è quello Meno impattante Perché è lo sfondo Bianco Però si va a riprendere Qua sotto Abbiamo ancora Questo effetto Blu E bla 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 Guarda questo qui Il verde Mi piace questo Perché ha una vibe naturale Quindi rimane Meno fastidioso Più ordinato Più elegante Ci si può fare anche qualcosa Per una festa Non so Guarda qui invece Abbiamo questo rosa Che non mi dispiace C'è tipo l'effetto piume Ma c'è piuma E anche un po' spugnato Non so se mi sono spiegata E poi abbiamo Un altro Dei disegni Psichedelici Che abbiamo visto prima Però sono belli pure questi Ultimo Blocchetto Tropical travels Viaggi tropicali Ragazzi Andiamo a vedere Cosa abbiamo qui I cactus Io amo i cactus Ragazzi Io sono un amante Dei cactus Incredibile Io li adoro troppo Guardate che bello Questo pattern Con tutti i cactus Ordinati In modo obliquo Mi piacciono Top Adoro Ok qui invece abbiamo Una bellissima composizione Di cactus Con questa ci farei un quadro Cioè la staccherei così Senza nemmeno lavorarla Me la appendo così Perché è bella Oh Questa è extra estiva Carina anche questa Un po' più fresh Quindi meno pesante Dell'altra Vedete che si vede Il bianco dietro Quindi rimane anche Un po' più leggera Anche un po' più Tranquilla Tra virgolette Agli occhi Ecco Questo mi piace Perché questo è un total green Che ci sta Bene E lo vado Lo metterei insieme a questo qui Perché vedete Almeno si riempiono a vicenda No Abbiamo altri cactus Questa volta Su sfondo verde Guarda che carina Che c'è la casetta Per gli uccelli Lì Visto Ci sono impegnati proprio Bella anche questa Con i fiorellini Più piccini Carino Anche questo Che c'ha I verdini Un po' Sovrapposti Quindi sembra Tutto un colore unico Ma invece poi ti avvicini E vedi che ci sono tutti Piccoli cactus Un po' di blu I cactus che tendono al blu Non li apprezzo particolarmente Ma in questa composizione Ci stanno stra bene Quindi ok Altre palline Questo è un po' anonimo Veramente Però non è male Magari per uno sfondo Di contorno Per dire mettiamo questo dietro E poi davanti ci metti Un'altra cosa Tipo questo Ecco Magari li vai a sovrapporre Così c'è un po' Di riverbero del colore Oh L'ultimo Con i cactusini Questo mi piace ancora di più Perché sono tutti vicini E c'è sempre l'effettino Quello là che non è troppo coperto E quindi dà meno fastidio agli occhi Comunque molto molto carini Di questi ce ne sono 50 Dentro ogni libro Quindi Abbiamo un sacco da decorare ragazzi Inoltre Abbiamo visto i washi tapes Abbiamo visto questi Adesso andiamo a vedere Anche altre cose Che ho portato per decorare Quindi Ecco qui Allora andiamo a prendere Gli stickers Ho scelto degli stickers vari Alcuni per fare le parole Altri invece li ho scelti Per fare Semplicemente decorazione Inizierei con questi qui Che sono particolari Ah ecco c'è il pannello da tre Interessante Beh abbiamo Tutte le lettere dell'alfabeto Ok ovviamente ripetute due volte Perché di solito fanno così Hanno questa shape Un po' strana Triangolare Non so perché l'hanno scelta così Però E' curioso Bisogna tipo far incastrare le parole In modo tale che Speriamo che non ci siano due parole Che hanno il verso sbagliato E poi qua sotto Invece hanno messo delle piccole O frasine Oppure delle piccole parole Che non è affatto male Sono simpatiche Anche per organizzare l'agenda Magari uno va a mettere La piccola parola Che ti indica Che cosa devi fare Non è male Non è una brutta idea Affatto E adesso vi faccio vedere Anche la forma Vedete che qui Praticamente dentro Ci sono I triangolini Analoghi A quelli che abbiamo appena visto Ho preso Quelli di Elsa E quelli di Topolino Sempre con le letterine Io li andrei ad aprire Perché così vediamo anche Come sono fatti dentro Allora Fammi vedere un pochino Non sono Ah due fogli Bene Due foglie Qui dentro Abbiamo Le nostre letterine Un po' di foto di Elsa E compagnia bella Mi piace Come sono le lettere Perché le lettere Sono un po' più spesse Quindi non sono proprio Quell'effetto adesivo Quello sottile Sottile Bensì sono poco poco più spesse E anche un po' opache Che non è male Abbiamo degli oggetti Che ricordano proprio Elsa Quindi un po' di neve I fiocchi di neve E neve varia Perché c'è solo la neve Poi abbiamo il nostro Olaf Che lo adoriamo Olaf è fantastico Anche la sorellina di Elsa Anna ci c'è Andiamo a vedere anche Questi qui di Minnie e Topolino Che sono un po' più minimal Degli altri Guardate che carino Sempre le lettere Ma andiamo a trovare Anche degli oggettini Che ci ricordano I due personaggi Carinissimo Il cappellino col fiore I cappellini di Minnie Sono iconici Ci sono sempre Sono unici Allegati a questi Andiamo a vedere Un altro tipo di adesivi Ovvero quelli Prettamente decorativi Senza parole Andiamo a prendere Cioè senza parole Senza lettere Qui Ci sono quelli Che sono Io li chiamo I puffosi Perché non sono 3D Però quando tu li vai a toccare Senti che c'è lo spessore Quello morbidoso E questi Sono dei Dedicati ai party Penso Alle feste Quindi Si hanno Questa vibe Festiva Che non è male Mi piace Anche il macchino Là in mezzo E comunque Molto decorativi Molto carini Molto eleganti Abbiamo inoltre Questi Della foresta Più o meno Ecco Questi sono già diversi Questi sono 3D Vedete che c'è la parte davanti Non sono una grandissima amante Di 3D Perché mi si incastrano sempre Talle pagine Però è carino Abbiamo anche questo piccolo lama Un po' di Verdure No Abbiamo un po' di cactus Qui in giro E Allegati a quelli Ovvero Nello stile simile Ho questi qui Che sono Prittamente stili Vedete che c'ha Lo stesso pattern dietro Ho questi qui Che sono Estivi E Hanno appunto Tutte Farfalline Il limone Un po' di gelato Le ciabattine Quindi è proprio Sono proprio dedicati All'estate E stanno bene Col pattern Che ho visto prima Quello della frutta Quindi quasi quasi Ci faccio un collage Qualcosa di invento Per decorare Farfalle a non finire Perché le farfalle Sono extra carine Guardate questa Che ha anche il brillantino E ha anche L'effetto L'effetto metallico Anzi Tutte e due Lo hanno l'effetto metallico Quindi sarà carino E per completare la collezione Andiamo a vedere anche questi Questi sono un po' più particolari Degli altri Hanno questo effetto legno Che non mi Don't worry Be happy Molto carino Molto carino questo L'effetto legno Guardate che solidi Che sono Mi piacciono E Sono anche carini Questi qua magari Facciamo proprio Una decorazione Di un oggetto Perché secondo me Sono un po' difficili Da mettere sulle pagine Quindi ci conviene Fare qualcosa Metterli su qualcosa Di solido Però sono simpatici Anche questi E molto Molto Dolci E anche minimal Quindi stanno bene Facciamo un'organizzazione Generale Dei nostri Adesivi E guardate che belli Che sono Andiamo a far vedere Tutto quello che abbiamo preso Abbiamo i nostri Washi tapes Abbiamo Tutti i nostri Foglietti E io devo dire Che sono Extra contenta Di Tutti i miei acquisti Perché insomma Sono semplicemente Fantastici E magari Se volete Nei commenti Scrivetemi Se anche voi Avete degli adesivi Preferiti O se avete qualcosa Che vi piace tanto E non mi devo scordare Anche il filo Di foglie Molto molto bello Ebbene il video di oggi Purtroppo finisce qui Ma io vi ricordo Che sul nostro canale Abbiamo tantissimi Video simili Quindi iscrivetevi Lasciate un bel like E lasciate un commentino Noi ci vediamo Prestissimo Con un nuovo video Io vi saluto Per adesso Ciao